Andiamo avanti, adesso è il momento di un altro artista, un artista che è pronto a regalarci un suo inedito, pensate noi oggi abbiamo una fortuna perché lui lo sta presentando qui da noi in anteprima, si chiama Precania Riccardo. Precania, Precania, Precania Riccardo, eccolo qui, grazie Riccardo, Riccardo ha scritto qualcosa di magico, qualcosa di unico e noi abbiamo questa grande fortuna oggi grazie alla sua scuola, alla sua direttrice che lo ha portato fin qui, quindi Casa Sanremo Livebox è tua, conquistala tutta, in bocca al lupo Riccardo. Adesso che ti vedo, vorrei baciare e darti un senso, stai come una melodia con dentro un suo testo, mi fai cantare come in un concerto, Mi rendi felice, come fossi un maestro Adesso che ti vedo sotto questo cielo, vorrei spegnarmi nella luce del tuo petto, ho bisogno di un tussi per non spezzarmi, e di trovarmi nei segni delle tue mani Adesso che ti vedo, vorrei amarti per scrivere un testo, con una melodia che descrive la nostra armonia Mi fai cantare come in un concerto, mi fai cantare come in un concerto, mi rendi felice come fossi un maestro Adesso che ti vedo sotto questo cielo, voglio spegnarmi nella luce del tuo petto, ho bisogno di un tussi per non spezzarmi, e di trovarmi nei segni delle tue mani E tu lo sai che, tu lo sai che, tu lo sai che, che i nostri giorni saranno anni E tu lo sai che, tu lo sai che, che i miei fatti, baceranno i tuoi passi Adesso che ti vedo sotto questo cielo, nella luce del tuo petto, ho bisogno di un tussi per non spezzarmi, e di trovarmi nei segni delle tue mani Adesso che ti vedo sotto questo cielo, voglio spegnarmi nella luce del tuo petto, ho bisogno di un tussi per non spezzarmi, vorrei baciarti per darti un senso Grazie È una certezza con i ragazzi anche dell'Accademia, con noi è tutta un'altra musica, bravo Riccardo, complimenti e grazie soprattutto perché di là già la ballano tutti questa canzone Quindi erano tutti, vedi, tutta la tifoseria da quella parte, sentiamola questa tifoseria, sentiamola Grazie Riccardo